mamma basta mi metti bene bene lo campo mamma no 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 basta basta e ho a tutti ragazzi sono SIGUITO GIOUSI siamo in un nuovissimo video allora se mi mettete in questo momento bene dal telefono vi spiego tutta la situazione sono le 4 e 22 di notte E sto registrando questa intro perché vi spiego tutto Mia mamma, all'incirca un giorno fa, ha deciso di farmi un bel prencone Quindi mentre mi sto offrendo la doccia appena tornata dal mare Ho cominciato a lanciarmi da sopra della doccia oggetti e roba assurda che vi lascio vedere durante tutto quanto il video Comunque, volevo ricordarvi di lasciare like e commentare qui sotto con fatto Avete 5 secondi a partire da questo momento, quindi 5, 4, 3, 2, 1 Se l'avete fatto, siete sorteggiati in 10 ad essere salutati nel prossimo video Intanto vado a vedere un secondo i commenti del video precedente per salutare i 10 di voi Saluto L'innamorata official Chiari 2006 Angelo 20 Caterina Falduto You and me Lori Ale It's Deal Meli Meli Aurora Massai Artesina Mercuri Credo che sono a 9, non lo so E Chiut Primarina Un saluto a tutti Scusatemi se il video è un pochino brutto visto da qua Ma oggi ho delle cose veramente importantissime da fare Quindi perdonatemi se non mi sono messa a registrare tutto con la telecamera eccetera eccetera Comunque, mi raccomando, seguite tutti quanti sul mio profilo Instagram Ecco qui il profilo Se no a settembre la scuola anziché iniziare a metà settembre inizierà il play Quindi se volete dei giorni in più di vacanza mi raccomando andate a seguire su Instagram Se no lo siete cercati Niente Niente Facci un pochettino Eh? Facci un pochettino bene bene Perché quel nuovo balsamo un po' fa schiuma eh Ok Che è buono perché però te lo devi tenere un po' in testa eh Capito? Guarda ti sto mettendo un po' di quella nuova crema Ma che cos'è? Ma cos'è? No mamma Ma che è? Ma che è? Ma che è? Mamma Aspetta o Mamma che cosa è? Ma che è? Ma che è? Cosa? È il balsamo Mamma Dai Guarda ce l'ho tutta in testa Ma che cosa Silvia? Mamma che palle Ma che è? Mamma Senti quanto profuma di Di cocco questo balsamo Senti Mamma Mamma Basta Mamma Basta Mamma Mamma Smettila Ma che è? Che cosa? Smettila Smettila Mettila Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che stai sognando? No vabbè Mamma 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 Basta Mamma Mamma Basta Dai così Pio Mamma Basta Mamma Ma dai così Basta Ti ammorbidisce la pelle Mamma Mamma Basta Dai Metti bene bene lo shampoo Mamma 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 È buono sto balsamo Mamma Smettila Mamma 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 Che è? Che è successo Silvia? Ma che è? Che succede? Mamma Che è successo? Che è successo? Che è successo? Guarda Che cosa è messo? Non riuscivo a bere niente Ma che è? Ma che cosa è? Ho tutto il zucchero tra i capelli mamma Ma così sei diventata dolce 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 zuccherina mia Così impari a farmi il prank Guarda sopra che c'è Ho visto Eeeh Se volete un altro prank Se sopravvio ovviamente Saluta YouTube Mamma C'è una stupida È vero? C'è stato che ho preso? Guarda Guarda Non va giù Non va giù Non va giù Non va giù Mi sembri un cognitore Guarda come tutti Tornati su Ebbè Dai su Saluta Saluta i ragazzi Ti è piaciuto il prank No ho tutto il zucchero addosso Guarda Mamma mia finalmente sei diventata dolce 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 Eeeh Eeeh Sei pure leggermente struccata Guarda Cioè scusami se mi spogliavo davanti a tu Guarda Se ti spogliavi arriviamo a 200 mila like La prossima volta se arriva questo 50 mila Faccio un video Silvia mentre si fa la doccia senza costume 50 mila like Arriviamo a 50 mila e riprendo Silvia senza il costume Mi sono pure un po' vendicata Guarda Guarda tutta la roba Mi sono pure leggermente vendicata Questo è stato un prank che me lo sono inventata apposta perché volevo vendicarmi per tutte le cattiverie È stata una soddisfazione a parte Guarda Sì Guarda Non so quanto ci metterò al toglierli E beh aspetta che Ti odio Ti odio Metti un po' di... No 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 basta basta Per favore Tac Mi sembra un panettone mi sembra un muffin Va bene Faccio la doccia adesso Ah raga come ho detto 50 mila like e il prossimo video giuro ve la faccio vedere nuda come mamma l'ha fatta Bene ragazzi io spero che questo video in qualche modo vi sia piaciuto Mi dispiace veramente tantissimo Io odio fare i video con il telefono ma in questo momento è proprio sul... L'orlo Proprio sull'orlo sono arrivata perché è tardissimo ovviamente scusatemi tantissimo per questa penissima Penosissi... vabbè Penosissima qualità Detto questo vi ricordo sempre di seguirmi sul mio profilo Instagram Subshow official se no ripeto Il primo settembre apriranno tutte le scuole di tutta Italia Tutto a causa vostra Perché non mi seguite su Instagram Subshow official Tanto facile Tanto veloce Facile punto Detto questo niente vi mando un bacione Vi ricordo di seguirmi su tutti quanti i miei social network in qui sotto in descrizione Vi ricordo che i video escono ogni lunedì e ogni venerdì alle 15.30 su questo canale E niente vi mando un bacio E nulla Ci vediamo al prossimo video A presto Ciao belli Ciao 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 Ciao